Strappo del consigliere comunale di Ferentino Marco Valeri con il suo partito Forza Italia. Infatti ha comunicato la chiusura del gruppo Forza Italia all'interno del Consiglio Comunale e ha annunciato la sua adessione al nascente gruppo civico uniti per Ferentino in qualità di capogruppo, sempre in opposizione alla maggioranza. Gli accadimenti che nell'ultimo periodo hanno caratterizzato le dinamiche interne a Forza Italia, scrive che ho avuto l'onere e l'onore di rappresentare all'interno del Consiglio Comunale a partire dal 2013, sono il frutto di comportamenti caratterizzati dall'assenza di proposte, dalla mancata condivisione di scelte importanti per la città, dai inopportuni personalismi e soprattutto dal non rispetto dei ruoli conferiti dalla cittadinanza nelle ultime elezioni amministrative. Solo il senso di responsabilità verso i cittadini che nel 2013 hanno dato fiducia al sottoscritto, con circa 3.300 voti, di cui solo 1.400 alla persona del sottoscritto, mi hanno spinto a restare al mio posto. Da tempo, dice Valeri, attendo chiarezza sulla posizione che Forza Italia avrebbe dovuto assumere a tutela della cittadinanza. La linea di critica interna che sembrava essere la strada unanime decisa a livello provinciale è andata via via sbriciolandosi, generando un progressivo asservimento da parte di alcuni alle volontà di qualcuno. In questi cinque anni di attività amministrativa, la mia azione politica di minoranza non è mai stata supportata dal Partito di Forza Italia, sia a livello comunale, sia a livello provinciale. Pertanto, dopo un'attenta e seria riflessione, sono sempre più convinto che le mie idee liberali non sono più compatibili con le logiche interne a Forza Italia. Per questo, la sua decisione di aderire al gruppo Uniti per Ferentino.